In questo filmato vedremo come creare delle stampe e come personalizzarle inserendo anche degli elementi grafici all'interno di esse. Attiviamo il pannello tramite l'opportuno tool a forma di stampante o tramite il menu stampa dati. Come vediamo il pannello di stampa è suddiviso in due parti. A sinistra sono presenti i blocchi stampabili e a destra i blocchi inclusi nella stampa. Cliccando su un blocco a sinistra lo stesso verrà incluso nella stampa e quindi apparirà a destra. Inseriamo alcuni blocchi per generare una stampa personalizzata. I blocchi a destra possono essere spostati trascinandoli per ottenere un tabulato di calcolo più leggibile. Sono presenti nell'interfaccia alcuni tasti che permettono una rapida inclusione e esclusione dei blocchi stampabili. La stampa è possibile in diverse lingue italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco. L'intestazione del tabulato può essere personalizzata mediante un commento, la data d'ora e l'indice del tabulato. Inoltre è possibile personalizzare l'aspetto modificando i caratteri. L'esportazione del testo può avvenire in diversi formati. Il formato web HTML, che può essere incluso nel file di progetto, ovvero creato all'esterno. In formato RTF, interfacciabile con i maggiori web processor. In formato Excel XML, importabile in tutti i maggiori fogli di calcolo. E nel formato Open Document, leggibile direttamente dai web processor come OpenOffice e LibreOffice. Qualora la generazione avvenisse all'interno del progetto, è possibile tramite un potente visualizzatore HTML visualizzare il file direttamente all'interno di Nolean, premendo il tasto Visualizza HTML. Come già accennato, la personalizzazione non termina qui. Infatti, nelle stampe è possibile includere le viste. Le viste utente definite vengono memorizzate insieme al modello e sono gestibili attraverso un dialogo a cui si accede dal pulsante Gestione viste della toolbar. Premendo il tasto Aggiungi, si salva lo stato della vista corrente. Con la presenza di una vista, si attivano una serie di tasti che permettono di eliminare, rinominare e memorizzare le viste. Selezionando Memorizza dimensioni finestre, è possibile memorizzare una parte ingrandita dello schermo. Con la presenza di almeno due viste, è possibile procedere ad una animazione. Dopo questo escurso sulle viste, passiamo di nuovo al pannello delle stampe. Notiamo che si è aggiunto un nodo Viste, che include tutte le viste generate pronte per essere inserite nel documento. Le viste suddette sono dinamiche e vengono generate in fase di stampa. Una volta configurata la stampa, procediamo alla sua esportazione ottenendo un tabulato che include anche le viste. Grazie. 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 Grazie.